in questo video voglio mostrarvi come si assembla l'argel top di Claire Lakewood e la sua costruzione vi illustro intanto il modo in cui viene avviato questo lavoro la parte che avvierete sarà il dietro quindi avvierete queste maglie e andrete su facendo degli aumenti vedete degli aumenti fino alla parte dello scalfo da un lato e dall'altro procede procedendo con questo motivo a righe dopodiché separerete la lavorazione e procederete diciamo facendo prima la parte superiore del dietro sinistro o destro la bratellina e una parte del davanti questo l'avete fatto separato quindi poi riprenderete da qui e farete la stessa cosa quindi dietro la scollatura del dietro la bretellina e poi il davanti quindi unirete i due davanti ed eseguirete questi questi ferri mettendo le maglie in sospeso la parte successiva sarà quella di riprendere le maglie lungo i lati quindi farete prima un lato e poi l'altro riprenderete le maglie da dal laterale e vi porterete in avanti verso il centro creando degli aumenti per il legaccio terminate e avrete le maglie in sospeso qui e poi farete la stessa cosa esattamente dal lato opposto quindi riprendete le maglie è andata avanti con questo motivo a righe fino al centro e diciamo prima di lasciare le maglie in sospeso centrali sia per il lato destro che per il lato sinistro dovrete chiudere le maglie del legaccio a questo punto la designer ci dice di terminare questi due pannelli con il colore principale io ho deciso di chiudere i pannelli eseguendo un giro da una parte un ferro da una parte un ferro dall'altra con il colore contrastante in modo da poter fare questa unione a tre ferri creando una costolina come nel diciamo come come quasi le altre delle righe di tutto il top l'ultimo step sarà quello di unire la parte superiore quindi dovremmo semplicemente riprendere le maglie qui sul margine superiore riprenderle e chiuderle con le maglie che avevamo messo in sospeso per la parte superiore del davanti e anche in questo caso credo che riprenderò le maglie col colore contrastante da qui e farò ancora un giro un ferro con il colore contrastante qui in modo tale da unire e creare una riga blu con l'unione a tre ferri ultimo step sarà quello di riprendere tutte le maglie intorno alla scollatura riprenderle e chiuderle e riprendere e chiudere le maglie intorno al giro manica in modo da avere una visibilità più più stabile e sicuramente migliore questo è il top è stato divertente spero che anche per voi lo sia se volete unirvi al cal al quale abbiamo dedicato appunto che abbiamo dedicato a questo progetto possiate sempre in tempo avrete la possibilità di usufruire di tutto il materiale che ho preparato per il cal di wool crossing compresa la registrazione zoom del nostro appuntamento dedicato e potete partecipare al nostro gruppo facebook chiuso per partecipare ai cal di wool crossing occorre acquistare chiaramente il modello su raverly e poi acquistare il filato presso wool crossing se avete bisogno di consigli scrivetemi pure su whatsapp oppure per email federicachiocciolawoolcrossing.it grazie a tutte buon divertimento